Ciao ragazzi, io sono Stefano Annoardi, istruttore di Muay Thai tradizionale e Krabi Krabong. Oggi vi voglio parlare di un'altra tecnica fondamentale del Muay Thai tradizionale, che sono le gomitate. Nella scuola Taran Devec del Mai Mai Muay Thai esistono 7 tipi di gomiti, portati sia col gomito destro che col gomito sinistro, per un totale quindi di 14 gomitate. Anche qui il colpo va sempre tirato in profondità, quasi a voler oltrepassare il bersaglio. Per far questo dovremmo aiutarci con la rotazione del bacino, quindi tutti i muscoli del corpo intercorrono a dare potenza al colpo. Il bersaglio può essere tutto il corpo, quindi la testa, clavicule, esterno, gambe. Si può essere portato sia come tecnica di offesa che come difesa, per esempio da un colpo con le gambe, da un calcio circolare o frontale. E poi, essendo il gomito un calosso naturale, è molto utile impararle come difesa personale. Le gomitate che vi voglio fare vedere in questo video sono le prime tre. Quindi la prima gomitata, dal basso verso l'alto, ha una traiettoria quindi ascendente. La seconda gomitata è una gomitata circolare, portata quindi parallela al terreno. E la terza gomitata, probabilmente anche quella più pericolosa, ha una traiettoria discendente, quindi dall'alto verso il basso. Non vi resta quindi che provare ad allenarle. Se avete domande o richieste di allenamenti particolari, potete contattarmi su Facebook e Instagram tramite la mail e visitare il sito www.stefanoardi.it e visitare il sito www.stefanoardi.it